Quali sono le ragioni per cui una persona decide di adottare un cane? Ce n'è una in particolare che difficilmente una persona conosce ed è consapevole che possa influenzare la sua scelta, ma che fa davvero la differenza. Lo scopriremo all'interno del video tutorial di oggi. Ti invito anche a visitare il sito www.petsmind.it per ulteriori contenuti su questi argomenti. Che si tratti di un meticcio o un cane di razza, ognuno di noi ha delle motivazioni ben precise per procedere con l'adozione. Ma quello che è emerso anche da uno studio recente è che c'è a volte un elemento che può influenzare questa scelta. Ne ho parlato in realtà già all'interno di un video tutorial, quello dedicato alla differenza tra il lupo e il cane. Beh, una di queste differenze è in grado di influenzare una persona nella scelta del cane da adottare. Ed è quello che è appunto emerso da questo studio che ha preso in esame cani che erano ospitati presso un rifugio e ha valutato quali erano i cani che avevano la più alta percentuale di adozione, cioè che caratteristiche presentavano. Quello che si è visto è che in effetti non erano i cani che scodinzolavano di più o i cani che si presentavano alla porta del box più velocemente ad essere adottati, bensì quelli che avevano una caratteristica particolare. E cioè la capacità di assumere uno sguardo in grado di influenzare la scelta dell'adottante. Questo sguardo è quello che si viene a creare grazie alla presenza di una muscolatura che è in grado di sollevare in pratica il sopracciglio, la parte diciamo interna del sopracciglio e di conseguenza dell'occhio. È una muscolatura che è in grado di influenzare in pratica quest'area qui del viso del cane. Questa espressione quindi riesce a indurre nella persona che in quel momento si trova davanti al cane che sta proponendo questo sguardo in maniera inconsapevole a fare una scelta che è quella di iniziare a prendersi cura proprio di quell'individuo. È in grado in pratica di creare una sorta di interesse, di sintonia che può appunto portare a un'adozione vera e propria. E questa capacità sembra essere un po' il frutto di l'evoluzione del lupo in cane che ha permesso così di creare maggiore complicità tra l'essere umano e appunto i cani domestico. Questo è in grado quindi di indurre in noi esseri umani una maggiore predisposizione a volerci prendere cura dei cani, a soddisfare i loro bisogni. E questa espressione la possiamo noi nel nostro quotidiano vederla in diverse occasioni quando magari ci soffermiamo appunto a incrociare lo sguardo con il nostro cane e ci rendiamo conto che sta assumendo quell'espressione che non fa altro che lasciarci andare a soddisfare ogni sua richiesta. Ovviamente dobbiamo farlo sempre coscienziosamente e sapendo che alcune di queste richieste devono essere gestite da noi proprio per non creare poi magari qualche problema di natura comportamentale. Ma in linea di massima quando fanno quegli occhi dolci ecco tutto è legato alla presenza appunto di questa muscolatura a livello della parte diciamo superiore della testa quindi nella zona della fronte in grado di influenzare appunto lo sguardo che in quel momento metteranno in atto. Al di là di questo sguardo molto particolare ci sono anche altri criteri che possono indurre una persona a essere più attratta verso alcune tipologie di cani rispetto ad altri. Naturalmente è sempre una scelta personale ma in linea di massima quello che si è notato è che si è comunque più disponibili verso quei cani che ricordano un po' il viso del bambino e quindi stiamo parlando delle cosiddette razze pedomorfe cioè quelle razze che ricordano appunto i bambini perché hanno magari un muso un po' più schiacciato rispetto al classico lupo o classico lupoide hanno gli occhi molto grandi e questa caratteristica, questa struttura del viso sembra indurre una maggiore attenzione nei confronti del cane quindi la voglia di tutelarlo quindi richiamando un po' quello che in ognuno di noi in maniera più o meno marcata è presente come senso del dovere nei confronti del più debole e quindi di prenderci cura in questo caso di un animale che ci risulta innocuo, vulnerabile e quindi da tutelare in questo ad esempio razze come possono essere i classici molossoidi possono sicuramente richiamare in noi questa attenzione particolare ma ovviamente ripeto i gusti possono essere molto diversi però quello che è evidenziato da alcuni studi è proprio questa capacità attrattiva nel vedere un viso del cane molto simile a quello che può essere il viso di un neonato o comunque di un bambino bene fammi sapere se anche tu hai notato nel tuo cane uno sguardo molto particolare e se questo suo sguardo è in grado di influenzarti e non essere poi così fermo magari sulle tue posizioni come a volte dovresti invece essere ci aggiorniamo al prossimo video tutorial a presto